Caro nonno, tre sorelle identiche, verrebbe da pensarsi a tre gemelle. Caro nonno, tre gemelle identiche, verrebbe da pensarsi a tre sorelle. Scrivono una lettera al caro nonno. Raccontano lui quello che vedono. Il caro nonno le riceverà a distanza di vent'anni intervallate di uno. Caro nonno. Un film ommage al compositore vivente Dario Agazzi. Caro nonno. Un film senza speranza. Finalmente non troveremo giovamento da alcuna visione. Caro nonno. Alcune immagini non paiono neppure nitidie. Perché non adoperiamo macchine professionali? Saremmo più credibili e tu meno scorbutico. Caro nonno perché inserire il trailer nel film, perché? Che caratteraccio detieni? Verrebbe da dirsi che È il film sempre uguale di quel tale che detesta tutti.